salve a tutti ragazzi io sono rogamergod e oggi vi dirò come installare giochi del nintendo 3ds e 2ds e ds da computer senza spendere un soldo allora per iniziare no, chiudiamo questa cosa qua per iniziare va via allora andate sul vostro motore di ricerca sempre che si dica così e cercate cerco il web do land oh Ah, vabbè Do Do Land Oh Oh Do Land Il videogioco che siete interessati Ovviamente per Da DS a 3DS Per esempio adesso prendiamo Pokémon Pokémon Rubino Omega E Cerca il mio web Eh Dovete andare su questo qua Fitra E vi darà il duodolo Basta che scendete E accetto il rischio Basta che scendete E qua Poi ci sono i due doodoland Vedete Schiacciate il duodoland E poi Un bello dare Questo qua è un video un po' breve Però Ci vediamo al prossimo È un video un po' breve E' un video un po' breve